Salve a tutti ragazzi e bentornati su Guido su Server 2 Perché mi vedete da solo? Non è successo nulla, Sinergo non vi preoccupate però siamo divisi lavorativamente e anche nell'ambito YouTube stiamo cercando di portare la programmazione sempre al top e quindi alcuni giorni della settimana dobbiamo per forza di cose dividerci oggi io sto facendo questo video per voi, Sinergo invece si sta facendo il culo alla grande per concludere il film del piccone, praticamente il film di Minecraft lo state vedendo questo video ma è anche un video per dirvi che alle 8 uscirà sul primo canale il film completo, quindi tutta quanta la serie nuova del piccone e in realtà è un piccolo cortometraggio Sinergo ci ha dedicato tantissimo tempo, soprattutto nell'ultima puntata e soprattutto perché abbiamo dovuto recuperare dei ritagli di tempo qua e là quindi ci teniamo molto a questa cosa anche perché non l'ha fatta nessuno perlomeno nell'ambito di YouTube Italia e noi ci tenevamo come al solito ad essere i primi quindi aspettate un attimo qui che vi devo dire altre cose ma poi scappate subito a vedere il video di Sinergo sul primo canale e fateci sentire come al solito il vostro calore e soprattutto se vi è piaciuto questo esperimento quindi magari un domani possiamo metterci più energie per creare qualcosa di nuovo Ok, detto questo, 6, 7 e 8 dicembre saremo a Napoli so che questa è una notizia che non interesserà tutti quanti però sappiamo che giù abbiamo tantissime persone che ci vogliono bene e noi vogliamo ricambiare questo calore in qualche modo quindi 6, 7, 8 saremo al videogames show insieme a tanti altri amici ma è importante una cosa e ci teniamo a sottolinearlo per questo metteremo il link anche qui in basso che i biglietti sono limitati ci sarà un numero massimo di persone che potranno entrare quotidianamente questo per evitare la ressa che si è creata, come ben sapete, al Comic Con di un po' di tempo fa quindi ragazzi, se ci tenete a vederci se ci tenete a stare con noi prendete il biglietto ci hanno detto che l'evento sarà disponibile per tutti in live streaming quindi anche questa è una cosa fighissima anche perché noi stiamo, anche per questo, lavorando però stiamo cercando di portarvi una cosa che qui su YouTube non avremo la possibilità di fare e quindi una sorta di evento nell'evento dove saremo un'oretta sul palco tutti e tre i giorni quindi un'ora al giorno poi sicuramente saremo sul palco insieme agli altri YouTubers ma un'ora al giorno ci saremo solo noi ed è una cosa che vogliamo fare quindi un live nell'evento live e sarà una cosa molto difficile, abbiamo provato a portare qualcosa di simile a Bari però qui ci sarà molta molta più gente da quello che ci dicono quindi siamo già agitati e però sarà una cosa figa però tutti quanti potranno assolutamente vederla attraverso il live streaming e questa è una cosa, ripeto, tantissimo figa ok, detto questo vi ripeto l'ultima cosa prima di abbandonarvi che stiamo facendo i salti mortali stiamo apportando tantissime modifiche al nostro modo di fare ma non nella totalità molte cose non le vedrete e le capirete solo più in là anche perché come sapete la nostra programmazione è molto molto più lunga stiamo facendo nuove cose che non vi possiamo svelare perlomeno non del tutto perché stiamo apportando altri aggiornamenti ma vi chiediamo di credere credere in noi come avete sempre fatto fino adesso perché ne vedrete delle belle e speriamo che queste belle non siano belle solo per noi ma un po' per tutti quindi grazie ancora per il supporto che ci date quotidianamente e ci vediamo presto grazie a tutti grazie a tutti